Intanto leggiamo lo spiccio. Allora, la Commissione prosegue il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C2494-Tripiedi, recante e modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011 numero 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili affini. Segnalo che pur avendo le audizioni carattere informale, ne è stata autorizzata la trasmissione sulla web tv della Camera dei Deputati. In rappresentanza dell'INAI sono presenti il Presidente, Professor Massimo De Felice e il Direttore Generale, Dottor Giuseppe Lucibello. Avverto che per lo svolgimento dell'audizione la Commissione ha a disposizione circa 30 minuti, pertanto vi pregherei di avere un intervento con una durata orientativa di circa 15 minuti in modo da lasciarci poi spazio per eventuali domande e le vostre semmai repliche. Nel ringraziare ancora una volta i nostri ospiti do la parola al Presidente De Felice. Prego. Grazie Presidente. Il contributo che noi possiamo dare riguarda soprattutto alcune informazioni che immagino potranno tornare utili al dibattito. Intanto uno schema di lettura dei dati sugli infortuni, facciamo riferimento ai dati che INEIL pubblica periodicamente sul suo sito, cioè all'archivio Open Data. I dati che proponiamo sono selezionati per codice tariffa. In questo senso catturano meglio il rischio specifico rispetto al codice ATECO. Escludono esempio gli infortuni di un impiegato amministrativo che operi in un'impresa edile. Quindi sono finalizzati a dare effettivamente la fotografia della situazione di rischio. Riguardo alle denunce di infortunio, ne abbiamo avute nel 2010 poco più di 79 mila. Si sono ridotte nel 2014 a 44 mila e 600 circa. La riduzione è del 44%. Se facciamo l'analisi della serie storica vediamo che il trend è costantemente decrescente. Di queste denunce va considerato che il 7% circa in media in ciascun anno riguarda infortuni in itinere. La gran parte degli infortuni riconosciuti per causa di lavoro sono con assenza di menomazioni. Nel 2014 ne abbiamo avuti circa 30 mila su circa 38 mila effettivi. Riguardo agli infortuni con esito mortale ne abbiamo avuti nel 2010 301, 172 nel 2014. Parlo sempre di denunce. Il trend anche in questo caso è costantemente decrescente. Fra il 2010 il 2014 il decremento è stato del 43%. Parlavo di denunce. Se andiamo a analizzare invece i riconosciuti per causa di lavoro troviamo che c'è stato un abbattimento del numero che va fra il 20 e il 30% sull'intera serie. Possiamo dare ultimi dati sulle denunce. Abbiamo fatto il confronto fra il periodo gennaio-ottobre 2014 e il periodo gennaio-ottobre 2015. I dati mensili anche avete a disposizione sul sito dell'Inail. Nel 2014 abbiamo avuto in questo periodo quindi gennaio-ottobre 35.300 circa denunce. Nel periodo di quest'anno le denunce sono diminuite a 32.900 quindi circa il 7% in meno. Possiamo dire qualcosa anche facendo riferimento a una notazione che è nel documento che voi avete in discussione. Possiamo dire qualcosa anche sulla distribuzione per età. Degli infortuni abbiamo naturalmente un addensamento sull'età che vanno dai 35 ai 54 anni. Sottolineo il fatto che queste sono percentuali sul totale degli infortuni quindi non siamo in grado poiché non abbiamo la rilevazione del numero di teste per classe di età di dare un indice di sinistrosità. Quindi potrebbe darsi per esempio che sulla coda 65-69 anni dove abbiamo l'1,17% di infortuni la sinistrosità magari possa essere più elevata perché minore il numero di occupati in quella fascia. Vengo rapidamente alle malattie. Se consultate anche in questo caso i dati distribuiti pubblicamente sul nostro sito trovate che nel 2010 abbiamo come casi accertati poco più di 4.000 nel 2014 sono 4.900 circa. Il massimo della serie storica l'avevamo raggiunto nel 2013 con 5.400 circa. La massima frequenza come è ben noto l'abbiamo nelle malattie osteomuscolari. Abbiamo fra il 56 e il 66% sulla serie storica. Seconda in graduatoria sono le malattie relative all'orecchio e l'apofisi mastoide tra il 14 e il 23%. Questi numeri sono casi di malattia, non è il numero dei lavoratori ammalati e questo teniamo a sottolinearlo. Se facciamo riferimento ai lavoratori ammalati, abbiamo nel 2010 poco più di 3.500 casi, arriviamo al 2014 con 4.079. Il rapporto fra casi e invece lavoratori ammalati di solito ha una riduzione che va dal 14% al 19%. Dico questo perché le statistiche di solito riportano come malattie rilevate i casi, ma un lavoratore può denunciare a fronte di una malattia più casi. Ci sono poi le attività che INAIL svolge per tentare di ridurre, spesso riuscendoci per fortuna, il numero di infortuni e di malattie. L'INAIL ha finanziato progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 2010 al 2014 sono stati più di 4.000 i progetti ammessi, circa il 24% del totale dei progetti complessivi hanno riguardato l'edilizia, la percentuale è sostanzialmente stabile in ciascun anno per numero di progetti. Gli importi assegnati sono variati fra il 19 e il 26% negli ultimi tre anni, con un totale di 232 milioni. Sono stati poi conferiti quasi 9 milioni e mezzo per progetti di innovazione tecnologica, quindi per acquisto di macchine idonee a ridurre i rischi da movimentazione manuale dei carichi e o di caduta dall'alto, cioè per quegli eventi che più degli altri incidono sulla mortalità. L'altro è Bando Asporterlo. Questa è in estrema sintesi quello che noi possiamo mettere a disposizione per il vostro dibattito. Il direttore potrà dare altre precisazioni qualora ci fossero domande, curiosità. Sì, grazie Presidente. Credo voglia intervenire l'onorevole Treppiedi. Prego. Allora, grazie per i dati che avete fornito. Volevo chiedervi se avete lasciato le memorie, quindi se io ho la possibilità di rileggere l'intervento che ha fatto lei. No, al momento il Presidente non l'ha lasciata, quindi semmai ce la facciamo inviare successivamente. Non potremmo produrla. Anzi potremmo anche ufficialmente dare, ma questo lo trovate già in PDF sul sito. I dati che ci ha dato sono già dei dati pubblici. Certo, ma siccome stiamo raccogliendo tutte le varie memorie degli altri gruppi, se riuscite a darci anche le vostre sarebbe bellissimo. Una cosa, voi riuscite, Presidente, lei riesce a avere il dato delle persone che lavorano nel mondo dell'edilizia che hanno un'invalidità legata al proprio lavoro. Perché io credo che con l'aumento dell'età pensionabile ci saranno più persone che nel mondo dell'edilizia avranno problemi legati all'invalidità. Perché un lavoratore di 63-64 anni che è costretto a portare su un peso di 25 kg per il sacco di cemento o magari fare l'attività a meno 10 gradi, se penso al Trentino, o a 40 gradi in Sicilia, logicamente avremo una maggiore possibilità che questo individuo diventi un invalido. Proprio perché è legata alla molta fatica che si fa nel mondo dell'edilizia. E volevo anche un pochino, non dico contestare, ma perché i dati sono quelli, i dati sono... non si può fare a meno di dare un giudizio quantomeno. È vero che è diminuita la percentualità di infortuni, ma è diminuito anche il lavoro. Quindi a fronte di una riduzione, di una crisi storica settoriale, cosa che non è mai avvenuta proprio nel campo dell'edilizia, è normale che secondo me si abbassi il rischio di infortunio. Io la legherei al fatto proprio al calo dell'occupazione del più grande comparto industriale che abbiamo in Italia. Niente, volevo solo riuscire a capire se lei Presidente riesce a darci questo dato legato all'invalidità della persona che lavora nel mondo dell'edilizia. Allora, la risposta... entrambe le risposte si fondano su la stessa osservazione. Come già avevo sottolineato a proposito delle classi di età, noi riusciamo al momento a dare con precisione il numero assoluto di infortunati. Non riusciamo, questo lo abbiamo detto anche praticamente in tutte le relazioni annuali che ho fatto sinora, non riusciamo ad avere il denominatore del rapporto di sinistrosità, perché a noi servirebbe, per rispondere in modo preciso alla sua domanda, conoscere il periodo di esposizione al rischio del settore. In altra approssimazione, un po' peggiore di questa che ho detto adesso, sarebbe sufficiente conoscere il numero di lavoratori nel settore, in modo da poter fare il rapporto fra infortunati e esposti e quindi normalizzare rispetto al fenomeno cui lei accennava dell'eventuale diminuzione di esposizione al rischio, cioè di forza lavoro. Noi questo al momento non possiamo farlo se non con grande approssimazione, cioè facendo ricorso a fonti non omogenee con queste. Il lavoro che stiamo facendo, e abbiamo stipulato proprio pochi mesi fa un accordo con Istat, è ricevere da Istat le informazioni su le teste assicurate da Inail. In questo modo noi potremmo, speriamo, entro breve tempo rispondere alla sua domanda. La cosa che abbiamo fatto sperimentalmente, io l'ho citata nella relazione del luglio scorso, abbiamo potuto fare questa valutazione su alcuni sottoinsiemi sui quali noi all'Inail già abbiamo i dati per testa assicurata, in quel caso non c'è stato un effetto di riduzione degli infortuni dovuto a riduzione di forza lavoro. In quel caso abbiamo avuto sostanzialmente osservata una costanza, però non si trattava di settore dell'edilizia. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo, la sua osservazione metodologicamente e anche politicamente è molto significativa, è stata una nostra preoccupazione sin dal 2012, speriamo con i tempi che ci sono concessi di riuscire a sanare il problema. Grazie Presidente, se non ci sono altre domande ringraziamo i nostri ospiti e ci vediamo la prossima volta.